Sono diversi i progetti che coinvolgono le realtà nissene nel servizio civile. A metà dicembre infatti è stato pubblicato sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili il Servizio Civile Universale, il bando per la selezione di 71.550 operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio Civile Universale. Tre i progetti che riguardano la sezione territoriale WICI di Caltanissetta della durata di 12 mesi ciascuno, 25 ore settimanali, che interessano sia la sede nissena di Via Corsica che quella della rappresentanza di Gele in corso Vittorio Emanuele, 197. A darne notizia il presidente territoriale WICI Alessandro Mosca, si legge nella nota, tutti i progetti inclusi nel programma di intervento prevedono una riserva di posti in favore di giovani con minore opportunità, si precisa ancora. 12 dunque posti a disposizione per il progetto Officine di Attivismo Civico per la riduzione delle disuguaglianze, 6 per ciascuna delle due sedi e in entrambi i casi due posti riservati GMO. La vista un bene da tutelare che interessa solo la sede di Caltanissetta con quattro posti disponibili di cui uno riservato per i GMO e infine due posti per ciascuna sede di cui uno GMO in entrambi i casi per il progetto Sapere, Saper Essere e Saper Fare Ricette per l'integrazione. Anche il comune di Caltanissetta partecipa al bando con due progetti, sempre della durata di 12 mesi con 25 ore settimanali su 5 giorni lavorativi, e cioè giro-girotondo con quattro posti disponibili di cui uno per giovani con minore opportunità, 12 posti disponibili invece di cui due per giovani con minore opportunità per il progetto Informazione a portata di mano. Per tutti i ragazzi e le ragazze che effettueranno il servizio civile è previsto un assegno mensile di 444,30 euro. Gli interessati potranno selezionare il progetto al quale vorranno partecipare sempre attraverso apposita piattaforma e le domande potranno essere presentate entro e non oltre le ore 14 del 10 febbraio 2023.